buongiorno buongiorno oggi siamo in direzione passo valles è sabato è sabato 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 20 febbraio stiamo andando appunto passo valles poi da lì andremo su all'eresei a piedi e alle sul bob trainato dal papà e dall'indiera e niente il sole è sorto sono due gradi e dopo dopo basta dopo siamo noi quattro c'è anche la duda ovviamente eccola lì il nostro asking era qua ciao alè guardate quanto bello è alè con questo taglio da ribelle sì sì chi è quello lì alè è il papà di peppa e l'orso sempre limpido dove stai andando mettete il seduto che arriva la brioche adesso quello lì è quello della mamma sai alè quello l'ha la cioccolata quello del papà eccoci arrivati ciao Ciao Cosa fa toale? Tane Dio che bello che stai Ciao piccolo Quanto bello sei? Eh? Oh signore quanto siamo belli Ale Amore Sì vale Tracce Vai Duda Prendi papà Vai Vai qui E' maschia o' la femmina? La femmina No E' maschia o' la femmina? Ma femmina Rosca Sono una del mondo E' ma del mondo E' ma del mondo Fa un sorriso per la stampa Chi è che c'è lì col bobo? Guarda lui Ciao amore Ale Andiamo Guarda il posto Volei passare la colpe Ma che spettacolo Oh Topino Ci siamo Ma Mamma Che cosa è successo? Chedi Pesa hai tirato le palline a Duda che meraviglia siamo quasi arrivati con varie soste e tappe a giocare con la lente ciao amore ciao Ale Ale cosa c'è qua? cos'è quello lì? ti ho dato male quando fai ecocole dagli un bacino piano caro nooo ehi ciao piccolo ciao piccolo ciao piccolo c'è il babbo ciao buccio ciao buccio ciao buccio ciao buccio ciao buccio ciao buccio mamma che bello gatto Gatto no gatto che piccolo che piccolo che gattinzio amore guarda 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 Arton, Arton, Anto, 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 quanto bello è, quanto bello è Anto, e la tua Duda? Buon appetito!